E' il momento della cultura, Enrico Matteo Ponti torna a scrivere fiabe per bambini e per provare a vedere il mondo degli adulti con gli occhi dei più piccoli vi consigliamo questa lettura. L'intervista è di Emanuele Cariotti. Enrico Matteo Ponti, dopo l'acqua dell'ultimo mare esce le favole di Pagongolo, il papà con cui mi gongolo. Ecco, il titolo è abbastanza onomatopeico e fa e rimanda a alcuni pensieri, alcuni ricordi di fiabe. Cosa troviamo in questo libro? Ma in questo libro intanto c'è una continuità ideale con la poesia perché favola, poesia, musica sono sempre, secondo me almeno, dei linguaggi che servono a colpire le persone. Anche se sono favole, sono favole sociali per come lo definite io, cioè cerco di spiegare ai piccoli e anche ai meno piccoli un messaggio sociale, un messaggio di egualianza, di diritti. Ci sono delle favole che parlano del mare inquinato, che parlano delle diversità, del mostro che mette paura e che invece non vuole mettere paura, delle differenze, delle diversità, delle ambizioni umane, della dignità. Cioè è un modo scherzoso, diverso, con il quale si cerca, o perlomeno con il quale cerco, di far capire o di mandare un messaggio ai piccoli e ai meno piccoli, ripeto, in ordine a quelli che sono i diritti di base della società, della vita, del mondo attuale, del mondo di sempre, perché da sempre e per sempre io credo che noi nasciamo tutti da un'unica idea molto più alta di noi e che dobbiamo cercare di renderla sempre attuale. Parliamo di un evento importante che si svolgerà il 4 febbraio del 2015, naturalmente, alla Protomoteca del Campidoglio. Bene, è un po' un appuntamento che mi piace rivisitare con un pizzico di falsa modestia e ricordo che il mio primo premio letterario mi fu consegnato alla Protomoteca del Campidoglio tanti anni fa, nel 1970, e ci torno sempre volentieri a presentare i nuovi libri, infatti come vedi nell'invito c'è una carrellata di quella che è la mia opera ad oggi. È un modo anche questo per ricordare quello che dicevo prima, questo mix fra poesia, favola, questo mix fra idealità. Il messaggio che deve essere capito da tutti, deve essere portato a tutti di grande pace e di grande rispetto per tutti. Il telegiornale finisce qui.